Ciao ragazze e benvenute sul canale. Allora, oggi ho deciso di registrare una tipologia nuova, non so se questo tipo di contenuto può essere di vostro interesse. Comunque è un haul dedicato però ai libri, quindi vi faccio vedere cosa ho acquistato nell'ultimo periodo. Poi magari se vi interessa o se c'è qualche libro particolare, magari vi farò una recensione in un video apposito. Comunque vi faccio subito vedere cosa ho preso. Il primo libro è questo qui, che sicuramente conoscerete, ed era praticamente un libro che è uscito in edicola. La prima uscita era 2,99€ ed è della Cranford Collection. Comunque ci sono diverse uscite di grandi classici e io ho preso solo la prima uscita perché poi le altre hanno un costo di 9,99€ e non tutte comunque i libri poi mi interessavano. Ecco, anche perché tra l'altro avevo letto che alcuni libri non erano tradotti bene, quindi me l'ho lasciato perdere anche per questo. Comunque a 2,99€ valeva la pena prenderlo. E' molto bella la copertina. Questo è Orgoglio e Pregiudizio di Genosti. Molto bella. Qui c'è il famoso incipit del libro e cosa nota è universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un solido patrimonio debba essere in cerca di moglie. Quindi già l'incipit vi fa capire di cosa tratta. Comunque sia, io non l'ho mai letto, ne ho mai visto il film ed è una cosa bruttissima, però fondamentalmente non amo molto i romanzi, soprattutto quelli d'amore. Però essendo un grande classico vale la pena leggerlo. Più o meno conosco la trama, però non l'ho mai letto tutto, quindi ho voluto comprarlo. Anche perché, ripeto, la copertina mi piaceva molto ed è bella da tenere in libreria. Poi, altro libro che ho acquistato è questo qui di Riccardo Falcinelli, Figure. Quindi sicuramente anche questo lo avete sentito nominare. Allora, Riccardo Falcinelli è un graphic design italiano e oltre anche ad essere uno scrittore che scrive libri, diciamo, sull'area di sua competenza, vale a dire il design grafico. In questo libro, anche se la copertina può trarre in inganno, non è un manuale, non è un libro di storia dell'arte, ma è un saggio che ci spiega i meccanismi, come funzionano le immagini. Dal rimascimento a Instagram, quindi all'interno troviamo quadri, post di Instagram, fumetti, cinema, pittura, c'è un po' di tutto. E attraverso diversi aneddoti, l'autore ci spiega come si progettono e si costruiscono le immagini e cosa si cela dietro questi processi. E' molto carino perché poi ci sono le varie immagini che spiegano in tutto. Ci sono oltre 500 immagini. Poi a fine libro comunque su ogni immagine c'è un numero che vi permette di capire di che opera si tratta. Molto molto bello e soprattutto molto interessante. Poi ho questo qui di Andrea Giulio Dori, Riconquisto il tuo tempo. Praticamente è un libro che ci spiega come riconquistare e riprendere il controllo del nostro tempo. Perché nella società odierna siamo sempre di fretta, non abbiamo mai tempo per nulla. E quindi ipoteticamente all'interno dovremmo trovare dei consigli per riuscire a far buon uso del nostro tempo. Questo in realtà non l'ho comprato ma me l'ha prestato un mio amico. Mentre altro libro che ho acquistato e che sto leggendo è questo Becoming la mia storia di Michelle Obama. Un libro molto molto interessante. Io sono arrivata al capitolo 9. Che è il capitolo in cui Michelle sta cominciando a frequentarsi con Barack Obama. Allora, vi leggo un po' quello che c'è scritto. Allora, quando era solo una bambina per Michelle Robinson l'intero mondo era racchiuso nel Southside di Chicago dove lei e il fratello Craig condividevano una cameretta nel piccolo appartamento di famiglia e giocavano a rincorrersi nel parco. È stato qui che i suoi genitori, Fraser, penso si pronuncia così, e Marion Robinson le hanno insegnato a parlare con schiettezza e non avere paura. Va ben presto la vita rapportata molto lontano dalle aule di Princeton, dove ha imparato per la prima volta a cosa si prova a essere l'unica donna nera in una stanza fino al grattogielo in cui ha lavorato come potente avvocato d'affari e dove la mattina di un giorno d'estate uno studente di giurisprudenza di nome Barack Obama è entrato nel suo ufficio sconvolgendole i piani. In questo libro Michelle Obama descrive l'inizio del matrimonio e le difficoltà nel trovare un equilibrio tra carriera, famiglia e la rapida scesa politica del marito. Ci confida le loro discussioni sull'opportunità di correre per la presidenza degli Stati Uniti e racconta della popolarità vissuta e delle critiche ricevute durante la campagna elettorale. A me sta piacendo molto, non escludo la possibilità di acquistare anche questo ossia una terra promessa di Barack Obama oltre anche ad acquistare Cromorama, sempre di Riccardo Falcinelli. e niente, questi erano i libri che ho acquistato spero che questo breve video vi abbia intrattenuto e vi mando un grosso bacio alla prossima, ciao ciao!